Nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Foggia, il CIS Capitanata, tra i vari interventi assume una particolare valenza il progetto della strada regionale 1, la famigerata Pede Subappenninica, tratto Ponte di Bovino-Poggio Imperiale. Un progetto atteso da decenni di impatto non solo per i Monti Downi, ma per l'intera Capitanata, messo a punto dall'ufficio tecnico della provincia di Foggia, che ha curato la stesura e la redazione del documento di programmazione dell'intervento. Con la trasmissione ad Invitalia del progetto, sono state attivate le procedure tese alla individuazione del soggetto cui affidare i servizi tecnici per il completamento dei livelli progettuali. Nello specifico, il tratto oggetto di intervento va dallo svincolo con la SP110, presso l'abitato della frazione di Radogna in Agro di Bovino, all'innesto sulla Statale 16 in prossimità di Ripalta, nei pressi di Lesina. La lunghezza effettiva del nuovo tracciato della Regionale 1, non tenendo conto dei tratti già realizzati, è di circa 83 chilometri.